Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus L'oroscopo di lunedì 24 luglio Ariete, un avvio di settimana decisamente in discesa Vi sentite in forma, potete affrontare qualsiasi problema Probabilmente l'amore a darvi questa grande carica Anche per i singoli è possibile un incontro fortunato Toro, non vi sentite per niente in forma e faticherete molto ad affrontare gli impegni della giornata Le decisioni importanti in fatto di soldi e lavoro vanno rimandate In amore non riuscite proprio a fidarvi Gemelli, l'una molto bella in avvio di settimana Approfittatene per mettere nero su bianco un accordo professionale per firmare un contratto Anche l'amore vi sostiene, siete abili conquistatori grazie alla simpatia e alla parlantina Cancro, Mercurio in questa posizione è un tocca sana per l'attività professionale Porta idee e nuove occasioni Conviene puntare molto sul lavoro All'amore ci penserete tra qualche giorno In arrivo ci sono novità clamorose Leone, la luna ancora nel vostro segno rende splendidi i rapporti con gli altri Anche se qualche volta risultate un po' arroganti Nessuno è capace di resistere al vostro carisma Sul lavoro c'è un'occasione da afferrare al volo Vergine, ancora un po' storditi dal fine settimana Marte vi porta ad eccedere Con tutte le conseguenze del caso Sarà davvero difficile trovare il passo giusto sul lavoro Già domani vi sentirete meglio Ora sarà opportuno riposare Bilancia, ricordate che Giove è sempre nel vostro segno E questo garantisce la buona riuscita di ogni vostra iniziativa In questo momento poi avete appoggi molto importanti Fidatevi anche dei suggerimenti che vi daranno Scorpione, luna molto difficile in questo avvio di settimana Sul lavoro accuserete una piccola battuta d'arresto Magari un progetto subirà un rallentamento inaspettato In amore le cose non vanno meglio Sarete nervosi e scorbutici Sagittario, una buona dose di ottimismo Arriva con questa luna in posizione magnifica Che porta anche buonissime notizie In arrivo da lontano L'amore è sempre passionale E in vacanza farete strage di cuori Capricorno, sarà una giornata strana In cui vi sentirete minacciati Anche se non ce ne sarebbe ragione Avete paura che qualcuno possa approfittarsi Della vostra debolezza Sarebbe opportuno comunque fidarsi almeno del partner Acquario, non è un ovvio di settimana facile Per voi, il sole contrario vi indebolisce Conviene agire con circospezione Senza pretendere troppo Prudenza con le spese Evitate i litigi Affidatevi alle cure amorevoli del partner Pesci, ancora una giornata Molto favorevole in ambito professionale Mercurio vi rende molto scaltri Nel fiutare affari vantaggiosi In amore c'è ancora qualche discussione Di troppo Ma ricordate Che siete voi gli egoisti E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus Vi augurano buona fortuna Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Ma ricordate Le stelle di Azus I la ricordate